Weekend segnato dalla fine delle vacanze e dai rientri a casa per la riapertura della gran parte delle attività lavorative. Sulla rete ANA si è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del centro-nord. Viabilità Italia ha annunciato Bollino Rosso a partire dal pomeriggio di venerdì 23, quindi per sabato 24 agosto, e in particolare per l'intera giornata... Sagra della Patata, a Monte Crestesi da giovedì 22 a lunedì 26 agosto, la trentesima edizione. Tutte le sere dalle 18.30 apertura del ristorante con servizio ai tavoli. Spettacoli, danze e spazio giovani. Ti aspettiamo!